in altri modi che non fanno rinfracciati, ma se la ripresione comincia e non è stato conosce chi ha parlato di chi, è troppo tardi per prendere le altre funzioni, possono utilizzare un database e chi conosce chi, è un dissidente, allora anche la persona che ha contattato è un dissidente. La informazione sulle macchine è stata già utilizzata per sabotare le democrazioni. La gente vuole mettere su una protesta, perché la polizia stava rinfracciando la macchina. Prima che la gente si potesse muovere e metterla su, effettivamente, questa è una tirannia. Non hanno il diritto di intervenire in una protesta, a meno che non ci sia commesso un crimine, un diritto, e questa gente non voleva fare quello, non hanno avuto neanche l'opportunità di farlo. Quindi possiamo essere sicuri che questa informazione sarà utilizzata per attaccare i diritti uomini fondamentali. Dobbiamo considerare la sveglianza digitale ad essere un attacco alla democrazia. un'altra minaccia è la censura. Now, we used to think, twenty years ago, that the internet prevented censorship, that it enabled people to communicate, and that states couldn't block this communication. negare che gli stati non potevano effettivamente rinnovare questo momento di comunicazione. Ma poi gli stati sono diventati molto decisi a diborre questa censura anche in lì. e quindi la media e i vittimani sono così piccoli. E nessuno può essere libero, e la censura su internet è stata imposta. E la cittadina non è andata. Se l'India lo fa, e anche l'Australia lo stanno proponendo e la Francia lo fa già, perché no allora? Non esiste più uno standard per rispettare i diritti umani su internet. La Danica ha bloccato l'accesso a una serie di pagine in web, che era una segreta. Perché la prima regola della censura è che non si parla di censura. Poi questa lista è stata pubblicata da Wikileaks. E quindi la Danica ha bloccato l'accesso a questa lista. Perché non vogliono della Gia, che non vogliono di censura sapere quanto vengono censurati. L'Australia ha considerato, per molti anni, come bloccare l'accesso a siti stranieri. Ma la legge è stata pubblicata. Comunque c'è la censura in Australia. In fact, Electronic Frontiers Australia was forced to remove Electronic Frontiers Australia è stata è stata obbligata a rimuovere un link a un sito straniero a un sito politico straniero a un sito straniero on paying of a fine of $11,000 a day e ha pagato una multa di 11,000 dollari al giorno. So they couldn't possibly pay that. So the internet is censored in Australia and I just read that they came up with a clever plan for voluntary censorship. Do you know what voluntary censorship means? It means that certain ISPs voluntarily impose filtering on the internet on all of their customers. It's only voluntary for the company, it's not voluntary for the users. Now, part of this is that machines have been developed for censorship. They're now continually available. They were developed by companies in supposedly free countries to sell to China. And, of course, once the machines are available for Chinese censorship, any country can buy it. And I just read about another voluntary censorship plan being discussed in the US. And there's another in the UK. It's supposed to be secret. But the movie companies and record companies are talking with the government about setting it up. So, censorship is being imposed around the world. I'm not an expert on the details of the censorship of Italy. But I know that it is. And you better tell your politicians that censorship is an attack on human rights. They must abolish censorship. They want your support. There are a couple of usual suspects, you might say, that politicians use to justify censorship and surveillance. One of them is the so-called child pornography. Except, of course, some of these children are 17 years old. So, it's a lie completely. But, and the other is terrorism. But, really, neither of these is anything as bad as censorship. Now, terrorists really exist. And they sometimes cause some harm. But governments that don't respect freedom are much more dangerous. For instance, terrorists attack the US and killed almost 3000 people. Then Bush used lies to attack Iraq and killed 4500 Americans. Plus maybe a million Iraqis that he pretended not to try it again. So, who was more dangerous? So, who was more dangerous? In the UK, around 500 were killed by sending them to Iraq. And around 50 were killed by terrorists who were inspired by their anger at the intervention in Iraq. So, who was more dangerous? Terrorist or the state? Obviously, the state is more dangerous. The state is more dangerous. We must not let the state censure our communications. Because that allows the state to show the full force of its danger. We have to put the states in check so that they don't turn on their citizens. And that allows the freedom to communicate. Unimpeded by the state. The next threat to our freedom in social society comes from data formats that are designed to restrict users. Most often these formats are secret. Sometimes they are used for public education. Some. Grazie a tutti.